Diari, 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 l'accordo senza diari Diari, 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 l'accordo senza diari Diari, 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 l'accordo senza diari Diari, in ho tadcani, a perché sa chepponde vi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito èצowo L'amma ala kai awa taniyato khanimba Menbukho mroukha wumto djarru khanimba Khoed mei utalawi nio perda khanimba Pafrawi fienki lutke i shakhanimba Aj diari, 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 diari Diari, diari, diari Diari, 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 wakaka bazdari Aqo banazdari, bazdar ba cagdari Aqo sao khumari, bazdar ba damari Harbo khud rakami, khashi kurdawari Bajdar khud rakami, khashi kurdawari Aqo sao khumari 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 Noi rimroiti a cam, tersi lì a zanima Ani a juba daima, nabiju yanima Hama wampia dali, na shi'arra khanima Dali abu minba, shu'kni, jini yanima Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.